Buonasera, benvenuti al TG7 Basilicata. Fervono i preparativi all'Istituto di Istruzione Superiore Federico II di Melfi, sede del Media Show, l'Olimpiade Internazionale della Multimedialità, giunta alla 24esima edizione. Un evento che celebra l'innovazione, la creatività e la competenza dei giovani studenti nell'ambito delle tecnologie multimediali. Prenderanno parte alla gara circa 70 alunni e alunni provenienti da 23 scuole, non solo italiane. Arriveranno a Melfi per gareggiare infatti ben quattro delegazioni straniere, tre dall'Albania e una dalla Francia. Tutti si sfideranno su una traccia ministeriale che chiederà di dimostrare le proprie abilità nella produzione di contenuti multimediali che mettano in luce il talento e la diversità di approcci alla multimedialità. Il Media Show offre inoltre un'opportunità unica per gli studenti di confrontarsi, apprendere dagli altri e condividere le proprie esperienze. I partecipanti hanno modo di arricchire ulteriormente il loro bagaglio di conoscenze e competenze e di sperimentare la tecnica di apprendimento basata sull'imparare e facendo. L'evento che si terrà nei giorni 21, 22 e 23 marzo è reso possibile grazie all'impregno profuso dal dirigente, il professor Prospero Armentano, dal presidente del Media Show, il professor Nicola Cavallo e da docenti ed allievi dell'Istituto di Istruzione Superiore Federico II di Melfi. La scuola si conferma così come un centro d'eccellenza nella formazione e nell'innovazione, promuovendo attivamente la multimedialità come strumento di apprendimento e crescita personale. La realizzazione di questa Olimpiade Internazionale della Multimedialità, l'ha dichiarato il dirigente scolastico Armentano, è un trionfo di impegno, creatività e collaborazione. Siamo estremamente orgogliosi di promuovere ogni anno un evento che mette in luce il talento eccezionale dei nostri studenti e promuove l'importanza della multimedialità nell'educazione. Allora sì, il 21, 22 e 23 marzo prenderà avvio la 24esima edizione del Media Show. Siamo felici perché dopo la pandemia già l'anno scorso i numeri ci hanno dato conferma, quest'anno ancora di più. Ci saranno circa una trentina di scuole, fra scuole secondarie di secondo grado e scuole secondarie di primo grado, per un totale di circa 80 partecipanti, fra cui 4 delegazioni straniere, 3 dall'Albania e una dalla Francia. Quindi questi numeri ci incoraggiano ad andare avanti questa buona pratica didattica. Il Media Show intanto è un'Olimpiade internazionale della multimedialità. arriva una traccia dal Ministero dove appunto i partecipanti avranno circa 8 ore di tempo per montare un cortometraggio, una pubblicità, un loro prodotto multimediale appunto sulla traccia appunto che arriverà dal Ministero. Naturalmente ci sarà una commissione che valuterà naturalmente i vincitori anche se i ragazzi vinceranno tutti perché si metteranno, diciamo, in discussione nell'affrontare questa traccia. Grazie.